Musica Soddisfatto e ricco di esperienza ha fatto ritorno dalla Spagna l'ormai famoso gruppo dell'Ariano Folk Festival che ha fatto tappa a Madrid. Due mondi culturali e musicali che se pur distanti uniti dagli stessi interessi e dalla stessa passione e ritmi. Gli organizzatori hanno incassato un nuovo successo e hanno mostrato di avere tutte le carte in regola per confrontarsi con altri mondi aprendo la nuova stagione del tour europeo. Dopo le numerose tappe come Barcellona, Bruxelles e Parigi segue la Spagna a pochi mesi dalla chiusura dell'ultima edizione della Kermess musicale svoltasi a Piano della Croce che ha visto sulla passerella sfilare nomi di artisti a livello nazionale ed internazionale che hanno fatto ottenere agli organizzatori un plauso dal mondo artistico sia per la perfetta macchina organizzativa sia per la qualità altissima della musica. L'Ariano Folk Euro Club Tour si è aperto alla nuova stagione del tour europeo partecipando ad una serie di eventi promossi nelle diverse capitali europee arrivando a Madrid che ha colto la proposta artistica del fortissimo gruppo arianese. A condividere e apprezzare il progetto dell'Ariano Folk Festival è stata l'Olivia Rock'n'Roll Café locale situata in uno dei quartieri più effervescenti dal punto di vista culturale e musicale della capitale spagnola. Per l'occasione i direttori artistici del Folk Festival hanno messo a punto un programma musicale di altissimo spessore con artisti sia italiani che locali. È stato motivo di grande orgoglio per gli organizzatori riuscire a portare in Europa il nome di Ariano Irpino e dell'Irpinia all'interno del progetto etno-culturale dell'Ariano Folk Festival. Grazie a tutti.